Sono condannato da questo e che mi si salvò da cacere con le volontà parlamentari, con il primo silenzio del deputato, e fece la dimetta del Presidente della Repubblica Leone e Vettroni, non io, scrisse che è una cosa più verconiosa, ma è parte del giornalismo italiano. E' una campagna di stampa, e per ogni giornale quale campagna in contatto. Non era più caso, era 10 anni dopo. Non c'era il cazzo, ma non c'era l'altro. Non c'era la cazzo, ma non c'era l'altro. Non era il cazzo, ma non c'era l'altro. Non c'era la cazzo, non c'era la raccolta di piedi dell'acqua contro il commissario della Presa, cosa è riposito, ma 45 anni dopo. Voglio dire che c'è anche una vita professionale piena di ombre impeccanti. Grazie. 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 1 seconda non è riuscito a farlo e quindi è un posto molto difficile che farà a parte di dietro e che su mercoledì l'articolo della nuova niente e la nuova niente questo è stato più interessante perchè abbiamo provato a distruttare due volte con quelle elettorie e anche con un fermo anche questo fatto allora vi chiedo perchè è necessario perché Draghi non ha ancora andare deve parlare con i parlamentari ma sembra andare via che vorrà finire questo nuovamente potrà fare un senso mercoledì allora grazie grazie chiaro grazie 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 a tutti.